Buongiorno a tutti, saluto in particolare Magdalena, la mia collega polacca, Daniele e Renato che hanno condiviso con me precedenti esperienze. Naturalmente ho ascoltato i contributi di Veronica De Romanis, Maria Carnate e Valerio De Molli, ho aggiornato l'intervento, ma poi ovviamente se c'è un dibattito possiamo ampliare, siccome mi dicono che questo è aperto ai giornalisti, l'intervento sono stato misurato, mentre poi mi permetterò di slittare con la frizione magari nel dibattito a porte chiuse. L'Italia ha superato greggiamente un periodo molto duro. Un mese fa l'Istat ha certificato che il PIL dello scorso anno è cresciuto del 3,7% e se mettiamo assieme questo dato con quello del 2021 pari a 7%, l'economia italiana è cresciuta complessivamente poco meno dell'11% in due anni. E' un risultato molto importante, potrei dire straordinario soprattutto alla luce delle forti difficoltà che abbiamo avuto e che continuiamo a affrontare e che colloca l'Italia in una posizione paradossalmente migliore rispetto ad altre economie europee. La resilienza del sistema produttivo italiano che si è trovato ad affrontare le recenti crisi in condizioni adeguate è stata uno dei fattori chiave della ripresa. I processi di ristrutturazione e riallocazione delle risorse produttive innescati a seguito della grande crisi finanziaria di quella dei debiti sovrani hanno infatti permesso sia di migliorare la posizione finanziaria delle imprese, sia di ricollocare le produzioni verso attività ad alto valore aggiunto. La diffusione sul territorio di distretti industriali caratterizzati da filiere più corte rispetto ai concorrenti straniere ha inoltre limitato l'impatto negativo delle interruzioni e delle strozzature che hanno interessato le catene di fornitura globali nella fase di ripresa post-pandemia. Ne ha guadagnato la competitività sui mercati globali, uno dei principali punti di forza del nostro sistema economico. Nel perdurare di condizioni poco favorevoli agli scambi, l'export italiano è riuscito non solo a mantenere le proprie quote di mercato, ma anche a recuperare posizioni, confermando anche nel 2022 una dinamica positiva migliore rispetto a quella realizzata dai nostri principali partner europei. Il rafforzamento dell'economia è visibile anche nei dati relativi agli investimenti e all'occupazione. I primi hanno ormai recuperato i livelli pre-pandemici e sulla base delle indagini qualitative più recenti sono attesi crescere in maniera moderata nel breve termine. Segnali positivi provengono anche dal mercato del lavoro, che dopo la buona performance del 2022 ha fatto registrare nei primi due mesi dell'anno la creazione di 100.000 posti di lavoro, un ulteriore fattore di miglioramento per le prospettive della nostra economia. In questi primi mesi l'azione di governo si è concentrata nel minimizzare il rischio di recessione, attraverso interventi mirati a sostegno delle famiglie e delle imprese più colpite dal cario energia. In poco tempo e con ritmi molto serrati siamo riusciti a predisporre una legge di bilancio realista, prudente e responsabile, che è stata apprezzata dai nostri partner e dai mercati. E vorrei aggiungere, diciamo così, cogliendo uno spunto della professoressa De Romanis, purtroppo in pochi hanno colto una manovra che nella legge di bilancio c'era. Noi abbiamo mantenuto la montare totale della spesa sociale, ma abbiamo tolto le pensioni per dare in modo significativo alle famiglie, le famiglie numerose. Di questa azione io rivendico, diciamo così, l'azione anche perché è politicamente non semplice, soprattutto quando si tocca l'aspetto pensionistico. Avere conti pubblici in ordine è un'esigenza assoluta per il nostro Paese, che deve mantenere la fiducia dei mercati sia per contenere i costi di finanziamento, sia per evitare ripercussioni che possano pesare sulla situazione di famiglie e imprese. E' in questo contesto che deve essere inserita anche la correzione delle norme sui bonus edilizi adottata a metà febbraio. I bonus edilizi riconosciuti negli ultimi due anni hanno generato finora un impatto sulle casse dello Stato di circa 117 miliardi, in continua evoluzione peraltro. Non nego che il Superbonus abbia contribuito alla ripresa economica ed è importante continuare a sostenere il settore edilizio. Non si può però dimenticare che a questi crediti corrisponde un debito a carico del bilancio dello Stato, non ancora contabilizzato ai fini Eurostat e Istat, ma da onorare nei prossimi anni. Per interventi che a conti fatti vanno a interessare meno del 5% del patrimonio immobiliare esistente con un approccio regressivo, come è stato ricordato in precedenza. Siamo però intervenuti per sistemare alcune delle criticità emerse nel corso del tempo e segnalo in particolare le modifiche approvate questa settimana dal Parlamento che sono intervenute per alleviare i vincoli di capienza fiscale consentendo di allungare dieci anni il periodo dentro il quale sfruttare i crediti riconosciuti e forse anche allungare il peso per cassa sul bilancio dello Stato. Abbiamo inoltre portato avanti un lungo lavoro di sensibilizzazione nei confronti di istituzioni e banche che in un quadro di maggiori certezze sotto il profilo giuridico sta consentendo la ripresa del mercato dei crediti. Sono in corso di realizzazione dei sistemi che attraverso il coinvolgimento di società partecipate e altri soggetti interessati in primis il sistema confindustriale dovrebbe permettere di smaltire l'arretrato certificato accumulato finora nei cassetti fiscali. Le diverse sessioni che avete avuto modo di seguire nel corso di questi due giorni hanno sicuramente fornito un quadro esauriente dei rischi e delle prospettive che caratterizzano l'attuale scenario. Ai rischi con cui stiamo iniziando a convivere si è di recente aggiunto una possibile crisi bancaria con connessi timore di contagio. sebbene il settore bancario europeo e in particolare quello italiano mostrano una solidità costruita nel corso degli anni attraverso il rafforzamento delle regole di vigilanza e delle strutture di controllo. In questi giorni stiamo ultimando il documento di economia e finanza che presenteremo tra pochi giorni in Parlamento. Sarà l'occasione per fornire una valutazione approfondita della situazione congiunturale definire gli obiettivi per il medio termine individuare le azioni più opportune da adottare per continuare a sostenere famiglie e imprese e più in generale proseguire gli interventi previsti nel programma di governo. Le prisioni per il 2023 sono in miglioramento. Ci aspettiamo anche in base alle stime dei modelli interni variazioni congiunturali positive del PIL nella prima metà dell'anno che congiuntamente al trasciunamento della crescita proveniente dello scorso anno ci porteranno a rivedere leggermente verso l'alto l'obiettivo di crescita per il 2023 precedentemente indicato che ricordo era stato fissato allo 0,6%. Per il proseguo dell'anno pur essendo plausibile un'ulteriore accelerazione dell'attività economica per motivi prudenziali continueremo ad assumere un ritmo moderato di crescita. La notevole attenuazione del prezzo dell'energia elettrica e del gas naturale rispetto ai valori registrati lo scorso ottuno rappresenta sicuramente una buona notizia poiché riduce la pressione su famiglie e imprese. Questa settimana il Governo ha approvato un decreto legge che contiene una serie di interventi in materia di energia basati sia su meccanismi di sostegno a famiglie e imprese sia sulla proroga di misure già in essere riorientate per favorire il risparmio energetico. Come dimostrato dai dati pubblicati recentemente l'inflazione sembra aver preso una curva discendente in particolare grazie ai prezzi dell'energia ma per chi ha responsabilità politica non può non preoccupare la dinamica del cosiddetto carrello della spesa prodotti alimentari in primis è un tema di discussione condiviso con i miei colleghi europei quali strumenti hanno i governi per scongiurare effetti distorsivi nella formazione dei prezzi non giustificati da fattori oggettivi o di concorrenza combattere l'inflazione con la politica monetaria non basta e la recessione non può essere il prezzo da pagare per domare l'inflazione. Non è sufficiente però gestire le emergenze del momento e abbiamo in ogni caso la necessità di sviluppare politiche rivolte al medio termine che consentano di innalzare in maniera costante il potenziale di crescita fondamentale non solo per creare occupazione e sviluppo ma anche per avere una più efficace gestione del debito pubblico. Le turbulenze che negli ultimi giorni hanno caratterizzato i mercati finanziari e le politiche monetarie restrittive perseguite dalle banche centrali per ridurre l'inflazione costituiscono fattori di rischio per un Paese come il nostro caratterizzato da un delivato livello di debito pubblico. L'autonomia delle banche centrali va rispettata. L'auspicio è che la loro azione di politica monetaria sia orientata sia al contenimento dell'inflazione sia alla stabilità finanziaria. In questo contesto la capacità di assicurare un adeguato livello di investimenti pubblici e privati assume un ruolo centrale. Per farlo è però necessario adottare una ottica di sistema che coinvolga le energie migliori nella realizzazione di politiche di crescita che rendano strutturali i trend positivi osservati negli ultimi anni e garantiscono la stabilità complessiva del sistema Paese. L'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza rappresenta un'opportunità concreta in tal senso ed è la priorità del Governo. Concordo tuttavia sulla necessità di effettuare un'analisi che consente di avere un quadro preciso sulla realizzabilità complessiva degli interventi previsti per migliorare quanto possibile gli aspetti più problematici e nel caso rivedere i piani iniziali. È una posizione per me non nuova e che già avevo espresso in qualità di Ministro dello sviluppo economico e osservo in questi giorni polemiche che non hanno alcun senso. Infatti rispetto all'impostazione iniziale sono successe delle piccole cose non banali. Lo scoppio di una guerra nel cuore dell'Europa con i riflessi in materia di prezzi dell'energia di effetti sulla catena di approvisionamento e infine sull'inflazione. E se proprio vogliamo trovare una causa della difficoltà di implementazione del piano nazionale di ripresa di resistenza dobbiamo trovare semplicemente nello stress a cui abbiamo sottoposto una struttura burocratica della pubblica amministrazione lo sa bene il collega Brunetta che probabilmente non era e non è per il momento all'altezza di sostenere questo tipo di shock tra virgolette di domanda. In questo contesto c'è comunque l'opportunità di riorientare l'offerta privata in particolare quella precedentemente impegnata nelle attività connesse agli interventi di strutturazione edilizia verso le opportunità fornite dai progetti legati alla realizzazione del piano nazionale di ripresa di resilienza. In diversi casi infatti i bandi emanati finora per la realizzazione di opere pubbliche come ad esempio per la posa della banda larga sono andati deserti a causa della mancanza di imprese disponibili a realizzare le opere. E' inoltre importante fare in modo che a fronte di una domanda forte per le infrastrutture pubbliche ci sia la capacità da parte di un sistema di imprese solido di intercettarla e realizzarla in tempi rapidi. A tale riguardo potrebbe essere opportuno ragionare su strumenti che consentano di andare incontro alle esigenze delle imprese già coinvolte nella realizzazione dei bandi assegnati per avviarne all'esecuzione. In particolare siamo al lavoro sul tema delle garanzie. Gli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza saranno rafforzati anche dagli ulteriori misure del Piano Repower EU che sarà articolato su tre direttrici sostegno nell'investimento dei figlieri verdi di produzione energetica anche per cogliere gli spazi aperti dalle nuove regole sugli aiuti di Stato del quadro temporaneo tema su cui forse sarà il caso di aprire un dibattito miglioramento delle infrastrutture energetiche contrasto alla povertà energetica anche mediante la riqualificazione dell'edilista residenziale pubblica che non a caso è l'unico ambito per cui il cosiddetto super bonus è stato tenuto aperto. Per rendere il nostro Paese più dinamico innovativo e inclusivo non basta soltanto il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza è necessario infatti investire anche per rafforzare la capacità produttiva nazionale e lavorare su un orizzonte temporale più esteso di quello del Piano e questo è un tema che deve essere affrontato non solo in Italia ma anche in Europa e mi fa piacere che la professoressa De Romani sarebbe richiamato il tema demografico che troppo spesso gli economisti trascurano ma che diventa in prospettiva una questione di rimente per il futuro dell'Europa anche evidentemente economica. In diverse occasioni ho già avuto modo di sostenere che sarebbe auspicabile predisporre uno strumento comune per finanziare i beni pubblici europei e gli investimenti che hanno una valenza strategica per l'intera Unione non solo green e digitale ma anche le spese per la difesa. A tale fine stiamo proponendo ai nostri partner uno sforzamento e un'ulteriore armonizzazione del quadro europeo degli strumenti finanziari e le garanzie che nell'interesse sia dell'Unione sia nazionale possa favorire il coinvolgimento di capitali privati e stimoli agli investimenti. A livello nazionale il Governo è impegnato sin dal suo insediamento nel promuovere sviluppo e occupazione. Le scelte allocative adottate finora sono state finalizzate a salvaguardare spazi di bilancio da sfruttare per sostenere chi si impegna lavora e investe e questa è la filosofia che sta dietro alla riforma fiscale avviata con la legge delega recentemente approvata al Parlamento che nella parte relativa a tassazione delle imprese è finalizzata a introdurre strumenti che favoriscono la patrimonializzazione e la crescita dimensionale facilitano la vita di chi fa imprese in Italia rendano più attrattivo il sistema produttivo italiano. Si tratta di un cambio di approccio notevole basato su un progetto ambizioso che vuole ristrutturare in modo organico la fiscalità. L'ho detto ieri la presentazione in un'intervista di oggi la presentazione della delega è soltanto il primo passo perché poi c'è il Parlamento ci sono i decreti delegati e tante volte in passato io ho parlato di passi falsi in realtà voglio dire partenze false non basta presentare la delega affinché diciamo la riforma sia attuata è un percorso lungo richiederà mesi forse anni il contributo al rafforzamento del sistema produttivo sarà assicurato anche dal disegno di legge per incentivare lo sviluppo del mercato di capitale italiano in via di definizione che sarà presentato nelle prossime settimane e all'esame diciamo delle strutture tecniche della presenza del Consiglio è un provvedimento che ritengo fondamentale per accompagnare e sostenere la ripresa che si è andata consolidando in questi ultimi anni e affrontare le sfide della transizione che attendono il nostro Paese le misure contenute nel provvedimento saranno volte a fare in modo che gli intermediari finanziari e gli enti previdenziali privati possono contribuire in maniera decisiva a potenziare gli investimenti privati o verso le nostre imprese diversificare le fondi di finanziamento e agevolare l'evoluzione del sistema produttivo verso forme più avanzate di raccolta di capitali una struttura finanziaria più sviluppata potrebbe infatti rappresentare un fattore centrale per intercettare le opportunità che pur nel complicato momento che stiamo attraversando si stanno prendo anche a seguito dei cambiamenti radicali nelle abitudini di vita e lavoro che abbiamo dovuto pronteggiare nel recente passato in generale come più volte ho avuto modo di sostenere anche in ruoli diversi le politiche pubbliche e l'assetto istituzionale delle relazioni industriali dovrebbero facilitare o quantomeno non scoraggiare la crescita dimensionale delle imprese questo potrebbe considerare loro di collocarsi in segmenti di mercato caratterizzati da un maggiore valore aggiunto e un più elevato contenuto tecnologico migliorare le produttività e offrire lavori con qualifiche e retribuzioni più elevate chiudo con alcune considerazioni ci troviamo di fronte a una fase molto dinamica che presenta rischi di varia natura ma anche notevoli opportunità il governo intende dare stabilità alla ripresa che abbiamo realizzato negli ultimi due anni è una sfida complessa ma imprescindibile per non tornare ai ritmi di crescita sfidica che hanno caratterizzato lunghi periodi del passato il necessario consolidamento dell'elevato debito pubblico italiano accumulato in anni recenti potrà essere più sostenibile se accompagnato da uno sviluppo economico robusto e da una politica di bilancio prudente e equilibrata in relazione anche col nuovo assetto della governance europea che si andrà ad allineare nei prossimi anni e qui vorrei dire che il negoziato è complesso molto complesso non solo per le nuove regole che dovranno sopravvivere nel futuro ma anche per come gestire la fase di uscita di sospensione delle regole semplicemente come gestire la fase transitoria perché ricordo che la sospensione delle regole di bilancio termina col 31 dicembre del 2023 e aggiungo il clima politico di rilassamento generato in questi anni di crisi da covid e guerra attorno alle regole di bilancio non renderà semplice il ritorno a una qualsiasi regola il sostegno pubblico all'attività economica continuerà a esserci ma la selezione degli interventi da adottare dovrà essere rigorosa per assicurare la massima efficacia delle risorse utilizzate ridurre i divari che a vario livello continuano a caratterizzare il paese e questa è l'unica possibile strada per fare in modo che l'Italia possa continuare a sopprendere come ha fatto negli ultimi anni come ho avuto modo di dire proprio qui a Cernobbio ormai due anni fa il tempo del cambiamento è il tempo dell'investimento e la politica in politica economica deve oggi concentrarsi più sull'offerta che sulla domanda grazie grazie